Ciao, io sono Sofia Colinelli, campionessa del mondo di ciclismo. Ciao, sono Matteo Cavezzali, scrittore. Vi spiegheremo quali sono i servizi digitali offerti dalle reti delle biblioteche della Romagna. Invece mettiamo che vuoi cercare un libro elettronico. A questo punto ti consiglio di cercarlo direttamente nel Mlol, sempre su Google, Mlol Romagna. Cerchi su Google e ti viene fuori già, vedi, Mlol Romagna con tutti i libri. A questo punto da qui puoi cercare, mettiamo che tu voglia leggere... Cosa vuoi leggere? Davenia. Davenia. E' stato fortunato perché le adolescenti di oggi si dicono Giulia Delellis. Ah, vabbè, io... Potevo anche dirti lei. Sì, sì, ma ci può sempre andare peggio. Hai detto lei? Allora, vediamo Davenia, qual è che non hai ancora letto? Allora, ho letto bianco come il latte lo sa come il sangue. Ok. Però mi ispira molto... Ciò che inferno non è. Ciò che inferno non è. Ok, a questo punto vai in scarica ebook. C'è questo passaggio che è la guida all'uso. È l'unico passaggio un pochino tecnico, ma lo devi fare solo la prima volta che ti registri. E poi dopo non serve più. Devi ottenere come prima cosa una password e un ID di Adobe Reader, che è comunque tutto gratuito. Quindi tu apri questa finestra e la compili con il tuo nome, cognome, la mail, password e queste le crei proprio dal niente per la prima volta. Ok, data è il giorno di nascita, basta avere più di 13 anni. Ce l'hai più di 13 anni? Sì, ne ho fatte il 18 ad agosto. Ah, vedi, allora puoi anche andare a prendere la patente. Sì, mi sei iscritta. Pian piano. Dopo quando hai la patente dimmelo. Stiamo più attenti. E torniamo alla nostra pagina iniziale di Mlol. Quindi il punto 1 l'abbiamo fatto, abbiamo creato l'ID gratuitamente. Possiamo andare avanti e poi scaricare l'Adobe Digital Edition. Perché la scarichi anche questa solo una volta e una volta che ce l'hai, sei a posto. Ecco qui, si apre la pagina e puoi scaricarlo a seconda del computer che hai per Mac o per Windows. Lo scarichi, vedi, ti si apre qua sotto e poi semplicemente lo installi. Sì, perché devi sapere che giro molto il mondo durante l'anno. Quindi per me è molto comodo portarmelo dietro. Più che portare libri. Ah, invece ti risparmi molto sul peso. Allora, a questo punto si sta installando Adobe Digital Editions. E qui basta che vai sempre avanti. Qui c'è una serie di continua, continua, accetta, installa. Si apre Adobe Digital Editions. E qui tu hai già tutta la tua biblioteca. E poi una volta che li scarichi ti appariranno lì. A questo punto tu dirai che cosa devo fare. Spingi su Aiuto. Ah, ecco. Che è la più spontanea che ti viene da fare. Autorizza computer. Clicca su Aiuto e fai Autorizza computer. Devo autorizzare il dispositivo. Deve autorizzare il dispositivo con il tuo ID Adobe. Basta che metti il tuo solito ID Adobe. La password. La password, quella che abbiamo scelto prima. Sì, te la sei appena inventata, quindi dovresti affrodurla. Sì. Infatti l'hai sbagliata. Ma io non so se è quella I o quella Y. Ok, nella dieta dei campioni non c'è il pesce per il fosfolo. No. Ok, perfetto. A questo punto, vedi, sei a posto. Torni sul sito e puoi scaricare il libro che vuoi. Ecco. Te l'ha scaricato e semplicemente te lo apre automaticamente dentro la libreria. Eccolo. Voilà. È già pronto. È già pronto. Qui te lo puoi già leggere e vedi apparso direttamente nella tua libreria. Grazie. Prego.